Per questa settimana mi aspetto una settimana bella, divertente, con dei ragazzi che hanno tanta voglia di mettersi in gioco, imparare. È sempre una grande emozione iniziare una settimana di Campus Masterclass. Avete tanto da fare, tanto da imparare, tanto da approfondire quello che è la vostra passione. Io sono anche una ragazza molto timida, quindi aprirmi con la persona si servirà tanto. Responsabilizzarmi e stare, appunto, fare amicizia. Però mi piace conoscere persone nuove, fare nuove esperienze. Spero di riuscire a creare un gruppo con tutte le ragazze e di riuscire a mantenere l'amicizia anche al di fuori di Campus. Imparare molte cose e di divertirmi. E sono montata qua, appunto, per apprendere e divertirmi. Di imparare cose nuove. Da questa esperienza mi aspetto di riuscire a stringere un legame migliore con il mio cavallo e riuscire magari a capire meglio come montarla. La curiosità è il mio stato d'animo adesso. Devo dire che mi aspetto, diciamo, molte queste da Campus. Un rapporto più solido con il mio cavallo. Sicuramente è un'esperienza molto formativa, sia, diciamo, in ambito sportivo che anche sociale. Di crescere sul punto di vista tecnico e anche sulla gestione di scuderia. Per me sicuramente crescere a livello sportivo, soprattutto con il mio cavallo, che non è un cavallo facile. Di creare un gruppo formidabile con tutti i ragazzi. Sono curiosa di vedere quello che succederà e le cose che faremo. Sicuramente saranno tanti argomenti e anche tanti di diverso tipo. Già da domani valuteremo le loro caratteristiche. Di conseguenza faremo un programma ben preciso per ognuno di loro. Grazie a tutti.